salve a tutti voi miei cari avete sentito in questi giorni parlare del cosiddetto reddito di inclusione che è stato introdotto mi pare proprio oggi dal governo attuale e molti hanno detto che in questo modo il governo insegue il movimento 5 stelle perché dicopia il reddito di cittadinanza vorrei chiarire in questo video come questo cosiddetto reddito di inclusione non c'entri niente con quello che secondo me dovrebbe essere un reddito di cittadinanza vi spiego subito intanto premetto che confesso la mia ignoranza non ricordo non ho letto bene se questo assegno mensile è di 80 euro 90 al mese se viene dato per tre mesi o quattro e se riguarda 2000 famiglia o tremila in tutta italia non mi ricordo i numeri esatti non sono poi così diversi da quelli che ho detto però non è questo punto il punto è concettuale questo reddito di inclusione che cos'è si tratta di elemosina pelosa a fini elettorali è una cosa che conosciamo molto bene non so mi viene in mente la folla dei diseredati sotto il palazzo del potente poveri straccioni sdentati smagriti dalla fame che chiedono un tozzo di pane un euro e allora si affaccia il potente dal suo balcone tutti osannano la prego ci aiuti sua divinità e quello venga il lebroso laggiù con la sedia a rotelle tieni cinque euro quello grazie ti bacio i piedi ecco questo è una cosa che è sempre piaciuta molto a ogni governo sia di destra che di sinistra ossia aiutare chi ha veramente bisogno e chi lo decide che ha veramente bisogno lo decidiamo noi noi che siamo al potere perché questa è un'elemosina che noi non dovremmo fare ma siccome siamo buoni e generosi allora diamo un regalo a qualche poveraccio e sì e lui deve ringraziare essere molto riconoscente dobbiamo essere sempre riconoscenti perché ci viene ci viene bontallora dato un posto un posto di lavoro una pensioncina un sussidio e bisogna ringraziare il politico di turno il referente di turno l'amico perché avendo preso la tessera del partito giusto essendo nel giusto sindacato hai ottenuto il tuo boccon di pane bene come buono lei questo è il concetto che abbiamo il concetto clienterà clientelare mentre il reddito di cittadinanza come lo vedo io che cos'è molto semplice è un diritto c'è una differenza enorme tra un diritto e un'elemosina il diritto lo chiede il cittadino perché è appunto un suo diritto e non deve ringraziare nessuno per questo si tratta di una tutela minima che vale per chi per tutti e questo il concetto fondamentale un diritto di tutti questa cosa esiste già e si chiama pubblico avete presente una strada sulla strada ci può camminare chiunque anche se non paga le tasse anche se un ex galeotto anche se ti sta sulle palle anche se un extra comunitario può andare in un parco pubblico bere all'acqua pubblica della fontana andare in una spiaggia pubblica e queste cose le teniamo in ordine noi con le nostre tasse le paghi te se un poliziotto sente qualcuno urlare aiuto mi stanno ammazzando va lì e salva questa persona non è che richiede ma lei che reddito ha lei di che nazionalità è questo è il pubblico si tratta di estendere questo pubblico a un reddito minimo di sussistenza per ogni cittadino come si calcola questo sussidio è molto semplice voi pensate a bisogna vedere la fascia di reddito se quant'anni è che in disoccupazione via tutto questo i soldi a disposizione in questo fondo diviso per il numero di richiedenti molto semplice una divisione perché è il cittadino che lo chiede dice semplicemente io ragazzi sono sfigato sono sfortunato qualunque ragione sia non riesco ad avere un lavoro chiede di essere messo sotto sussidio statale gli viene data la cifra appunto che possiamo dargli se siamo negli emirati arabi gli diamo 2000 euro se siamo una nazione sfigata ce ne diamo tre quello che è a patto che questa cifra sia legata con una forbice fissa lo stipendio dei parlamentari e allo stipendio dei parlamentari sono legati quello dei giudici eccetera 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 tu senti come dicono i francesi questo è un patto sociale un sistema che secondo me è giusto e funziona questa cifra che sarà 100 euro 500 quello che viene regita cash e tramite alcuni servizi non so l'accesso alla mensa dei poveri l'affitto di una piccola stanza non so un letto un tavolino un bagno acqua corrente un minimo di climatizzazione e basta questo deve essere garantito a qualunque cittadino italiano non è difficile e chiaramente per avere questo questo sussidio la persona deve chiederlo chiaramente non deve avere un lavoro non deve avere un tante bene di proprietà questo bisogna vedere ci sono dei requisiti per accedere non è che solo puoi chiederlo chiaramente però deve essere garantito a tutti se rispetti i requisiti questo è il concetto e hai degli obblighi perché è chiaro che devi essere disposto a fare qualunque lavoro anche quelli che non vuole fare nessuno per esempio c'è un disastro una calamità naturale un terremoto te domattina alle 6 del mattino prendi il pulmino vai ad aiutare insomma si costituisce un certo numero di persone quante saranno 10 milioni di risorse umane che hanno la loro dignità alla loro sussistenza e sono pronte a lavorare ecco questo è il mondo che vorrei legato la povertà che vorrei perché la povertà non si può eliminare ma si può garantire un'esistenza dignitosa a tutti qual è l'alternativa che voi proponete non so 10 milioni di morti di fame disposti a tutto che appena esci di casa ti accoltellano che si convertono all'islam fanatico e si fanno saltare in aria perché ragazzi finora queste persone sono state mantenute dalle pensioni dei nonni dallo stipendio dei genitori ma quando questi finiscono come si fa che molti si chiedono ma perché è necessario sto reggito di certa dinanza siamo sicuri ragazzi io non capisco sento dire che la popolazione non è più in crescita la popolazione italiana è in calo e molti mestieri vengono persi perché automatizzati e queste cose sono viste come tragedie ma cosa c'è di mare se siamo meno persone meglio bisogna chiamare le stracomunitari per colmare i vuoti ma cosa se inventano i camion che guidano da soli i camionisti cosa faranno ragazzi cambieranno mestiere se non ce la faranno beccheranno il sussidio minimo almeno ma mi sembra logico che in un sistema in cui i lavori si automatizzano sempre di più bisogna introdurre una cosa del genere alzare la soglia minima di sussistenza per le persone e questo con i soldi che ci sanno su base assicurativa io non capisco pagate mille euro l'anno l'assicurazione auto magari senza mai avere un incidente quindi senza averne nessun beneficio e un sistema tipo questo di assicurazione per per ogni cittadino di minima sussistenza l'ho trovato una cosa così obrobriosa non capisco perché io mi rivolgo ad esempio a quelli di voi che sono proprio i ceti più bassi a essere contro la sindrome di cittadinanza perché io già fatico a campare poi devo mantenere quelli che non fanno nulla tu magari che lavori in una cooperativa e come mestiere fai una cosa che non richiede quella grande genialità tipo spostare fascicoli da una parte all'altra che si è stato messo di magari da una cooperativa perché è una piccola invalidità e non si sa quanto sia vera questa invalidità e guadagni tu hai 1500 euro al mese con tredicesima pensione eccetera e puoi accedere ai mutui e comprarti la casa caro mio lo sai quanto vale un'ora del tuo lavoro attualmente vale due euro al nero questo è il prezzo sul mercato del lavoro non solo dell'estracomunitario ma anche degli italiani che sono disposti a farsi una giornata per 20 euro quindi stai attento che il tuo posto di lavoro c'è 100 persone che lo vorrebbero fare non senti non le senti lì che ti rodono il culo sei coperto d'accordo dal sistema clientelare ma quando questo va giù chi ti copre io starei attento cioè sarei contento se tu avessi questa ancora di salvataggio che se perdi il posto di lavoro comunque avrai da mangiare un posto dove stare e un minimo di soldi che poi questi queste persone che hanno questo sussidio saranno dei consumatori se le dai dei soldi anche questo è un fattore positivo da considerare vi pare bene signori e si vede che voi preferite un sistema questo sistema clientelare fatto di raccomandazioni con tutti questi baracconi statali parastatali sindacali preferiti così io preferirei una società di uomini liberi liberi dalla miseria e che possano fare libera impresa di se stessi non capisco perché questa cosa vi faccia così tanta paura bene io lo dico per voi fate come credete e ciao e alla prossima ciao ciao ciao